Ciao ragazzi, siamo qui in questo nuovo video che chiamerò un free breakfast perché da 10 minuti mi sono svegliato e ho detto che devo fare colazione a questo punto sfrutto l'occasio per registrare un video tranquillo ancora mangio sti coltetti che sono cioccolato e cioccolato bianco non sono come sono ragazzi, io cazzo è tutto sporco comunque vi ringrazio veramente tanto per il supporto che stai dando alla serie che sta andando veramente tanto bene non so questo video quando uscirà non so se non riuscirò a farlo uscire di mattina perché la mattina non ho proprio problemi a montare i video a registrare infatti ora è stato un miracolo questa parte sembra pieno non so se sta mettendo a fuoco vabbè comunque poi usciranno dopo questa serie cominciano ad uscire i video come abbiamo fatto sempre cioè con altri giorni o pure due video al giorno infatti probabilmente se riesco a fare questo video oggi non uscirà la serie perché se no andiamo troppo avanti che i contenuti mancano comunque volevo dirvi che questa serie cominciano a portare il primo episodio senza web che a me non sarà mai nemmeno l'ultimo perché a fare le live non ci serve il tempo è quasi mai è rarissimo mentre a gestione insieme con la webcam mi è troppo difficile che non c'è un computer così più potente da fare un video che adesso è durata mezz'ora la puntata giù a tutto il tempo io però registrando solamente con la scheda audio quindi andiamo comunque in pre registrato posso pure far vedere un momento in cui sto con la webcam senza sincronizia tutto cioè ragazzi potetevi il video se non ci credete poi raga vorrei sapere come vi piace di più io ve lo dico se vi piace più con la live cerco di portare un video con la live però se non c'è il tempo ah no non l'ho più ma ci vuole vi ringrazio ancora per questa serie che andiamo intorno che stiamo portando è la serie più guardata del canale cioè abbiamo fatto il mio anno scolastico che è mai stato subclassato da questi infatti mancano due episodi non li sono nemmeno portati anche vorrei lasciarli un po' più in modo che magari un video uscirà ad agosto o inizio settembre magari poi ha superato vabbè rimane ancora in cima il mio setup quindi mi spiego del microfono proprio tutte le altre rimane così poi quelle 3 news che abbiamo fatto su classate pure loro dalla serie cioè ragazzi veramente vi ringrazio tantissimo perché sono vecchissimo e chiaramente il gioco mi diverto ma lo stesso nemmeno la soddisfazione di vedervi che questi contenuti vi piacciono ragazzi allora vi acconda se vi piace e iscrivetevi ciao